ecco colle caruno da teramo sono sette chilometri otto giorni dalla neve ancora sommersi questi sono i cavi della luce e il bello che non si sono staccati per la neve per il peso ma bensì che l'hanno collegati con il nastro isolante si sono staccati per questo motivo il grande lavoro dell'enel società per azioni quelli sono gli altri fili ecco qua otto giorni sono messi per piacere dateci una mano